La prima giornata delle elezioni amministrative 2012 si chiude con un dato generale, quello dell'affluenza in calo nel Salento. Il numero degli elettori che si è recato alle urne a Lecce fino alle 22 si attesta sulla soglia del 53,76%. Nel 2007 aveva invece votato alla stessa ora il 59,41% degli aventi diritto al voto. Nella mattinata hanno votato tutti i candidati sindaco tranne Andrea Valerini di alternativa comunista poiché non residente a Lecce. Il primo a recarsi alle urne è stato Antonio Capone della Civica verso Lecce, seguito da Luigi Melica, candidato sindaco per il centro. Entrambi i candidati hanno votato presso la scuola media a Scanio Grandi. Alle 11 invece nel quartiere Aria Sana hanno votato Loredana Capone, candidato sindaco per il centro-sinistra, e Maurizio Buccarella per il Movimento 5 Stelle. Ultimo in ordine temporale è stato il sindaco uscente e ricandidato per il centro-destra, Paolo Perrone, che ha espresso la propria preferenza presso l'Istituto Galileo Galilei. Ma Lecce non è il solo comune al voto, si vota anche in provincia di Lecce per un totale di 22 comuni, capoluogo compreso. Il dato dell'affluenza alle 22 è del 52,98% contro il 59,09% di 5 anni fa. Intanto si registrano alcune presunte anomalie nel voto. Uno dei sei candidati sindaco di Lecce solleva infatti il sospetto dell'invio di sms elettorali da parte di un altro candidato sindaco e di un candidato al Consiglio Comunale, entrambi dello stesso schieramento, nei giorni di sabato e domenica, quando per legge vige il silenzio elettorale. Una pratica non consentita segnalata alle autorità competenti. Ci sarebbero inoltre casi di rappresentanti di lista che avrebbero votato due volte nel seggio assegnato gli per l'incarico e in quello di residenza. Giallo poi a Frigole nel seggio numero 88. Un residente di Casalabate si è recato nel pomeriggio per votare, ma al momento dell'identificazione la sua casella risultava già riempita. Dal controllo è risultato che con le sue stesse generalità fosse stato già esercitato il diritto al voto. A Brindisi città calo di affluenza pesante rispetto alle precedenti elezioni. Il dato della prefettura alle 22 del 49,47% di elettori recati sia ai seggi, contro il 62,76% del 2009. In tutta la provincia invece, quindi in tutti e quattro i comuni al voto, l'affluenza è del 51,52% rispetto al 61,57% del passato. Nel capoluogo, dove sono cinque i candidati sindaco a confronto, c'è da segnalare che non a tutti i candidati è stata data la possibilità di essere ripresi al momento del voto, perché la prefettura non aveva dato disposizione di far entrare le telecamere nei seggi. Dunque in alcune scuole la stampa è rimasta fuori e in altre è entrata. Stoppa le telecamere alla scuola Salvemini, dove votava il candidato sindaco di Brindisi, bene comune Riccardo Rossi, e allora immagini del candidato all'esterno con la tessera in mano. Il più mattiniero di tutti, Giovanni Brigante, candidato della Puglia per Vendola, sviluppo e lavoro, che si è recato a votare intorno alle 10.20 nella sezione 40 della Rione Casale. Alle 11, accompagnato dalla compagna e dalle figlie, al seggio numero 1, ha votato Roberto Fusco, candidato sindaco di IDV e rifondazione comunista. E dopo mezz'ora la Vittorio Veneto ha imbucato la sua scheda, accompagnato dalla moglie, il candidato del laboratorio politico Mimmo Consales, spalleggiato da una grande rappresentanza del PD. A mezzogiorno nella scuola Salvemini è espresso la sua preferenza il candidato sindaco di centro-destra, Mauro Dattis, con i colleghi del PDL. Intanto gli uomini della Digos presidiavano i seggi per assicurare la regolarità delle operazioni. Da alcune scuole sono state infatti allontanate alcune persone. Da Brindisi ci spostiamo a Taranto, dove il dato della partecipazione nel capoluogo, aggiornato alle 22, è del 41,87% rispetto al 48,92% di 5 anni fa. 11 i candidati sindaco a Taranto, 31 le liste di candidati al Consiglio Comunale. In campo sono scesi Angelo Bonelli, leader dei Verdi, il consigliere regionale del Lazio, Patrizio Mazza, e poi il sindaco uscente, Ezio Stefano, Aldo Condemi per il PDL, Mario Cito, figlio del leader di AT6, Dante Capriulo per noi democratici, Massimiliano Di Cuia per Rio Sud e ancora Luigi Albisini per Taranto C'è, Lice Abitritti Polignano, Movimento Schittulli, Mimmo Festinante, Galesus e Alessandro Furnari per il Movimento 5 Stelle. In tutta la provincia ionica il dato dell'affluenza è del 46,63% contro il 52,69% di 5 anni fa. 22 i candidati in gara per 5 poltrone nei restanti comuni al voto, 3 i comuni alle urne guidati da amministrazione uscenti di centro-sinistra, Taranto, Palagiano e Saba, 2 guidati dal centro-destra, Castellaneta e Mottola. Martina, invece, esce da un anno di commissariamento. Lunedì 7 maggio si può votare dalle 7 del mattino sino alle 15, ora in cui si chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio. Per votare occorre essere in possesso della tessera elettorale e di un documento d'identità. Grazie.